Deva, protezione e brillantezza, capelli colorati. Se la tua identità è colorata, Deva è la famiglia Ocris ideale per te. Deva è la famiglia di shampoo, conditioner e mask della linea Ocris, pensata per proteggere e illuminare i capelli colorati. Come tutti i trattamenti Ocris, la sua azione è visibile già dalla prima applicazione, ma si potenzia in modo progressivo, shampoo dopo shampoo, maschera dopo maschera. Oltre al prezioso set di estratti liquidi di 5 pietre preziose, la famiglia Deva è arricchita da attivi specifici. Gli estratti di semi di girasole, da cui derivano fitoceramidi biomimetiche che formano uno strato protettivo, per migliorare la coesione delle cuticole e proteggere dallo sbiadimento del colore. Il Vetiver Oil, ricco di vitamina E per un'azione idratante e nutriente per la struttura, regala lucentezza e morbidezza. Il mix di amminoacidi, interagiscono con i capelli producendo un visibile effetto cosmetico-idratante, ristrutturante, protettivo, che ripara dai danni superficiali. La famiglia Deva è composta da uno shampoo solo professionale, Deva Color Day per capelli colorati, da usare in salone lo stesso giorno del colore, per eliminare e liberare i capelli da tutti i residui di colore. Uno shampoo di mantenimento del colore, un conditioner ideale per capelli colorati più sottili o per chi ama un'idratazione leggera ed istantanea, ed infine da una maschera ricca, più indicata per i capelli colorati medio-grossi, che garantisce un'idratazione profonda ed intensa. Il cerimoniale Deva in salone, come tutti i cerimoniali Ocris, è l'occasione per vivere pienamente Ocris e ristabilire l'armonia tra corpo, anima e capelli. Comprensivo di massaggio specifico su cute e capelli, il cerimoniale Ocris rende il momento dello shampoo un vero e proprio momento di mindfulness per allontanarsi dallo stress quotidiano. Anche il cuoio capelluto, come il viso ed il resto della pelle del nostro corpo, merita un momento di attenzione, anche se non presenta anomalie particolari. Analizza lo stato di salute del cuoio capelluto e decidi quale prodotto Ocris utilizzare. Per idratare, Deha Moisture. Per lenire, Scalp Care. Per purificare o riequilibrare, Scalp Balance. Procedere con Deva Shampoo applicato su capelli inumiditi, lasciando che il getto d'acqua sia delicato e costante e che la temperatura dell'acqua sia tiepida. Distribuire uniformemente lo shampoo e massaggiare sempre delicatamente fino a creare una schiuma morbida. Al termine dello shampoo, risciacquare e procedere all'applicazione di Deva Mask o conditioner, a seconda della struttura e dello stato dei capelli. Massaggiare Deva Mask con il pennello su lunghezze e punte, pettinare ed avvolgere la testa con il turbante in fibra di bambù, inumidito con acqua calda. Lasciare in posa 3 minuti. Prima di lasciare la cliente, effettuare uno scarico sulle spalle, lasciando fluire l'energia. Togliere il turbante, lasciare raffreddare un minuto e risciacquare. Prima di passare allo styling, distribuire il leave-in più indicato. L'ospite che vive il cerimoniale Deva in salone potrà utilizzare la stessa famiglia anche a casa, per mantenere i benefici e potenziarli nel tempo. Tutte le linee OCRIS possono essere utilizzate in sinergia tra loro, miscelando gli shampoo tra loro, o le maschere o i conditioner. Sarà così possibile personalizzare il trattamento per ogni esigenza, sviluppando infinite risposte ad hoc. Per esempio, miscelando la mask Deva con la masca Asana, avremo la maschera ideale per capelli colorati e ricci. Scopri le infinite potenzialità di OCRIS, continuando a seguire i nostri canali social.